Oggi lunedì 15 luglio 2024, sono qui seduto tranquillo alla stazione di Brignole a aspettare mio amico Luigi Di Rò, in quanto devo tornare a Milano perché ho avuto una notizia e ho bisogno di tornare a Milano prendendo il treno delle 17.36. Che bella la stazione di Brignole, guardate sono qua con il mio quadro pieno di felicità, di armonia di vivere, di allegria ma purtroppo non è sempre così, ho saputo oggi una notizia, purtroppo non è così. La vita continua e sono qua, dopo essere arrivato dal viaggio di due ore dalla stazione di Milano, sono arrivato qui, in questo posto, a meditare e riflettere la percorribilità dell'esistenza, un mondo pieno di colori, vivaci per vivere, la gioia dell'infantilismo, ma col passare degli anni ci si affronta in se stessi anche una dura battaglia, dura battaglia per la salute. Ebbene, ora sono qua, sto aspettando Luigi Di Rò che torniamo insieme a Milano, l'ho chiamato urgentemente da Recco e devo dire che oggi è stato un viaggio andato e ritorno, ma comunque mi piace sempre Genova e faccio prima un leggero picnic, anche se ho il cuore sofferto.